Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Alessandra e oggi parliamo di Squid Game. Ok, è una serie tv stra-chiacchierata, se ne sente ovunque su TikTok siamo intasati praticamente di gente che prova a fare il gioco del caramello, però, 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 volevo dare semplicemente una mia opinione personalissima, anche perché a riguardo, c'avevo scritto un articolo, ve lo lascio qui in descrizione, e quindi di conseguenza non volevo essere sempre ripetitiva, tanto la storia la sapete, penso di sì, però comunque sia farò una sintesi, quello che ne penso a riguardo non lo sapete, quindi è questa la sorpresa. Ecco, prima di iniziare io vi ricordo sempre di attivare la campanellina, perché da questa settimana c'è la possibilità che io pubblichi anche più volte alla settimana, oltre questo di seguirmi se già non lo fate, di lasciare un like e un commento alla fine del video se vi è piaciuto, ma non solo, in descrizione trovate tutti quanti i miei link social, trovate anche la mia wishlist, il mio ko-fi, quindi se vi va di supportare la mia pagina, più che altro le mie pagine, potete tranquillamente offrirmi un caffè o regalarmi magari un libro che porterò ovviamente sul canale e anche su Instagram. Bene, detto questo, iniziamo subito con cosa ne penso effettivamente di Squid Game. Allora, all'inizio l'ho trovato un attimo, non è un'idea stra-originale, ammettiamolo, ci sono film, ci sono serie tv, ci sono libri che parlano di questa cosa, quindi di conseguenza l'originalità diciamo che la mettiamo anche da parte, però tutto sommato queste 456 persone che si mettono in gioco pur di avere denaro è effettivamente un po' un parallelismo con quello che succede quasi ogni giorno, quindi diciamo che cerca in tutti i modi di trasportare sui piccoli schermi ciò che effettivamente una persona sarebbe in grado di fare per denaro se si è disperati in generale proprio nella vita reale. Ecco, quindi a mio parere questo punto che secondo me non è stato trattato quasi da nessuno quando si è parlato appunto di Squid Game, a me ha fatto riflettere anche parecchio, perché effettivamente è vero, è il riflesso della società. Quindi ci sono queste 456 persone disperate, indebitate fino all'ultimo capello e di conseguenza devono trovare i soldi, i soldi che li trovano se partecipano a questo famosissimo gioco. Questo gioco consisterà in sette giochi differenti e chi vincerà potrà portarsi a casa tutto quello che è all'interno praticamente di un porcellino enorme che lo vedete sulla testa ogni volta, che si illumina, iniziano a cadere soldi su soldi, mazzette su mazzette e chi è che non ne farebbe gola di questa cosa? Chiunque praticamente. Quindi all'inizio non sanno effettivamente a che cosa giocheranno, infatti vengono rapiti e si trovano poi in un posto isolato, che è due cacchi, lo so io, e inizia con, vedono queste tute rosa, fucsia, come rosse, non lo so, aiutatemi, e con diversi, sul copricapo, diciamo, sulla maschera, diversi simboli, quadrato, cerchio, proprio come se fosse un joystick, un joypad della PlayStation, e che indicano il grado, fantastica, sta cosa l'ho trovata fantastica, e gli spiegano che devono giocare a diversi giochi per vincere il Montepreni. Fin qui niente di strano, tu dici vabbè ci gioco, tanto, chissene, ti pensi qualcosa di molto sobrio, qualcosa di molto leggero, invece no, papapà, prima puntata, cioè prima puntata del primo gioco, un 2 e 3 stella, che poi io personalmente mi sarei fatta ammazzare, perché avrei detto, ma non è 1, 2, 3 stella, e quindi di conseguenza mi sarei fatta sparare proprio a vista. Quindi appunto, si è capito che se tu avanzi, e se ti muovi nel momento in cui la bambola si gira, effettivamente puoi dire addio alla tua vita. E no, non sto dicendo puoi dire addio alla tua vita sociale, no, e parlo veramente che crepi, capito. E quindi effettivamente tutta questa massa di scemi inizia a correre, che mi sembra logico, verso la porta per uscire, no, magari ti stai fermo, perché visto che quello ti è mosso di un passo, e quindi tu puoi crepare da un momento all'altro, no, assolutamente, mi metto a correre. Quindi cosa succede? Effettivamente si crea una carnificina, ne muoiono un sacco di persone al primo gioco, e ritornati quei pochi che riescono a vincere, sono tutti destabilizzati, c'era una clausola all'interno del contratto che hanno firmato, perché è fantastico, firmavano pure i contratti questi, dove diceva appunto che se la maggioranza voleva, poteva finire il gioco, poteva terminare il gioco. Quindi iniziano a votare a ritroso, dal 456 fino al numero 1, e effettivamente la maggioranza decide di non continuare il gioco, nonostante abbia fatto gola il fatto che il porcellino era già mezzo pieno, perché ogni morte corrisponde al suo corrispettivo indenaro. Pazzesco. Quello che effettivamente mi ha lasciato un attimo interdetta in quel momento, detto che il vecchietto è il primo, quello continuerà a giocare, perché tanto ste crepa, e quindi di conseguenza dice che cosa me ne frega a me, o morire qua, o morire fuori, meglio morire qua, poi si scoprirà tutto il resto, quindi vabbè, amen. Quindi di conseguenza, vabbè, si prosegue poi, tutti quanti chiedono, ma perché ha fatto terminare il gioco? Perché qui, spoiler, 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 il vecchietto è quello che ha ideato il gioco. Quindi tutti quanti si chiedono, perché ha fatto terminare il gioco se lui l'ha ideato? Ci siete? E' anche un esperimento sociale. Quindi di conseguenza volevano vedere effettivamente quante persone ritornate alla vita reale, potevano poi effettivamente trovare un po' di, come posso dire, di felicità e rimettersi in sesto per non tornare disperati al gioco. E' ovvio. E anche questa è una cosa abbastanza geniale, perché effettivamente, ok, non è, ritornano 456, un centinaio mi sa che non torna, però comunque si è visto che effettivamente era come dicevano nel gioco, che una volta usciti erano comunque sia morti, tra virgolette, no? Perché tanto la loro vita era finita, erano indebitati a schifo, quindi di conseguenza a sto punto muori nel gioco oppure ci provi a vincere quei soldi per cambiarti la vita. E effettivamente è stato così. Quindi secondo me è stata anche un'idea abbastanza geniale per mettere in contrapposizione queste cose e far vedere, far uscire effettivamente il lato umano di quanto una persona disperata può arrivare. Cioè niente di più, niente di meno. Poi si arriva alla parte che io personalmente ho apprezzato tantissimo, ma non perché si stavano ammazzando a vicenda, assolutamente, ma è stato il meccanismo giusto per far capire anche che non solo è la questione del gioco in sé, che se una persona muore effettivamente, vabbè, amen, quei soldi arrivano a me. Se una persona muore per colpa di un altro giocatore, anche quella persona è come se fosse morta durante il gioco e quindi di conseguenza i soldi arrivano nel maglialino. Quindi anche questo, la cattiveria umana che spinge sempre a far del mare al prossimo per un tornaconto personale, cioè si vede, perché comunque sia nella banda delle persone che erano rimaste, non è che c'erano tutti questi stinti di Santi, però ovviamente c'era una situazione anche che spinti anche dalla gola comunque di avere tutti quei soldi e di vincere il Monte Premi, si è capace di fare tutto. La storia è un po' rindondante comunque, però è vero effettivamente e soprattutto, altra cosa che a me è piaciuta, il fattore che è vero, è verissimo che i ricchi si annoiano. Allora, io personalmente mi ritengo una persona abbastanza fortunata perché grazie ai libri non mi annoio mai, però effettivamente magari ad avere tutta la Mondadori, per farvi un esempio, in più potrei anche annoiarmi. Però effettivamente, quante volte ho detto effettivamente, raga, fantastico, oggi sto proprio, vai. Però comunque è una questione che è reale, perché c'è una situazione che i ricchi cercano, fanno questi giochi per avere uno stimolo, ok? Tanto devono spendere soldi in qualche modo, perché non investirli in qualcosa che li faccia divertire? non fa una piega, anche se comunque vorrei una seconda stagione per capirci qualcosa di più, anche perché gli interrogativi sono parecchi, ma davvero tanti, e quindi vorrei capire che caspita succede, anche se il registro stesso ha detto una seconda stagione, mamma santa, mai metto l'anima in pace, che sarà un tormento farla. Però, tesoro mio, ti è stata rifiutata da 12 anni, quantomeno adesso sii felice e fai l'altra stagione, no? Tanto Netflix di finanzia e amen! Sì, perché è stato, sì, è tipo la Rowling questo, che praticamente il suo progetto era stato bocciato un sacco di volte e poi effettivamente ha avuto tutto questo successo. Fantastico! Quindi, morale, perché non mi va di prolungarmi tantissimo su questa serie, perché a mio parere vi ho detto di originalità non è il massimo, di grafica però pazzesca, musiche anche, io non ne capisco un cacchio, ammetto, vado più che altro a gusto personale e ad occhio. Quindi, se una cosa mi fa intrippare, nel senso che mi piace come la vedo, tipo le scale, a me, è tipo, wow, fantastico! Cioè, una grafica comunque che fa paura. Le musichette anche comunque ti entrano in testa e sai a giorni a giorni questa canzoncina tipo quella all'inizio della casa di carta praticamente ti frega il cervello. Quindi, ok, d'accordo. Poi, i giochi comunque sono tutti quelli dei bambini, alcuni li conosci, altri no, perché giustamente alcuni sono soltanto specifici della Corea, quindi, tu dici, ma che cacchio di gioco giocano sti piccini? È vero, perché togliendo un 2-3 stella e il tiro con la fune che poi anche quello è stato tremendo. Cioè, e gli altri io personalmente non li conoscevo, cioè, quello là del caramello è diventato virale, hanno fatto i filtri e quant'altro. Me lo sarei mangiato il caramello, così tutto. Nonostante io sia insulino resistente, me lo sarei mangiato tutto. Dopo sarei crepata non per gli spari che mi avrebbero acciso, ma più che altro perché avrei iniziato ad accusare il colpo, ecco, degli zuccheri nel sangue. Però, detto ciò, ecco, morale di tutto. Quanto effettivamente merita questa serie? Non è un capolavoro. È un capolavoro di grafica, è un capolavoro di suono, di musica, magari, però allo stesso tempo vediamo anche di meglio, c'è anche di meglio in giro. Quindi, personalmente, è una serie da recuperare, sì, assolutamente. Ti fai i migliori pianti, sì, perché vedi proprio tutti i meccanismi di una persona, l'animo, quelle cose che tu dici, vabbè, a me non potrebbero mai capitare perché io non sono così. però per far capire quanto effettivamente può cambiare una persona per soldi, per quello che lo circonda e per quello che compie anche. Quindi, è quello che a me è piaciuto, il lato più che altro umano, ecco, e animalesco, diciamo, che traspare dalla serie. Non è tutto il resto, non è perché quelli sono fighi in, togliendo i personaggi che alcuni, tipo, con la bavetta alla bocca, tipo il poliziotto che vorrei sapere che fine abbia fatto perché nel caso io posso disinfettarli e medicare la spalla. Zitti zitti. E quindi, in conseguenza, togliendo queste cose che comunque si piacciono, non è chissà che cosa. Prendiamoci in giro. C'è però una forte morale, è un'idea davvero molto molto forte e ben strutturata, a mio parere. Vediamo con la seconda se non si perde in un bicchier d'acqua o che comunque vada poi effettivamente a fare qualcosa di decente e in linea comunque sia con la prima stagione. perché se la prima stagione è stata top io ho paura, paurissima che per la fretta di farne un altro poi sia un flop totale perché capita più e più volte quindi su questo proprio sono terrorizzata. Spero che non capiti perché effettivamente le aspettative sono molto alte anche perché il finale è molto interpretativo comunque molto molto forte che a mio parere vabbè ha fatto la cazza però ci doveva essere doveva fare la seconda stagione amen quindi di conseguenza era quello che doveva fare non poteva salire sull'aereo bello felice e contento no assolutamente no e quindi aspettiamo una seconda stagione per risolvere tutti i nostri interrogativi quindi detto ciò ho parlato anche per 15 minuti mi sembra più che più che giusto fermarmi qui e vi ricordo sempre e comunque di attivare la campanellina di seguirmi se già non lo fate di lasciare un like visto che a fine video penso che forse vi è piaciuto spero di sì e un commento se vi va dicendomi se l'avete visto cosa ne pensate se volete una seconda stagione o meglio finire qui e allo stesso tempo vi invito a seguirmi su tutti i canali social perché ovviamente lì sono molto più assidua molto più presente potete trovare i miei aggiornamenti di lettura divertenti nelle storie insomma ci facciamo anche quattro risate insieme bene alla prossima e buona giornata e buona giornata